La Corte d'Appello di Caltanissetta ha assolto un nisseno di 46 anni dall'accusa di non avere versato la cauzione di 1000 euro prevista per coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale. Sorveglianza che era stata disposta dai giudici in passato per via dei precedenti del 46enne. L'uomo, in una prima fase, aveva chiesto di rateizzare il pagamento a causa di problemi economici e la richiesta era stata accolta. Successivamente i giudici avevano revocato la sorveglianza speciale e quindi l'imputato non aveva più versato il denaro, essendo venuto meno il provvedimento del giudice. Solo che l'omesso versamento della cauzione gli era stato comunque contestato. In primo grado l'imputato si era visto infliggere due mesi e 20 giorni di arresto. Gli avvocati difensori Giuseppe Dacui e Giulia Baglio hanno chiesto alla Corte d'Appello l'assoluzione, sostenendo che il pagamento non doveva essere eseguito in quanto la sorveglianza speciale era stata revocata e i giudici della Corte d'Appello hanno accolto la richiesta assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato.